Il tour italiano europeo di Angelina Mango, previsti per questo autunno, sono stati improvvisamente cancellati per motivi di salute. La cantante ha annunciato la decisione tramite una lunga lettera condivisa sui social, lasciando i fan senza parole. Angelina Mango, ex concorrente di Amici e vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, ha deciso di ritirarsi temporaneamente e annullare il suo tour per prendersi cura della sua salute fisica e mentale. Su Instagram ha condiviso una foto di una pagina di diario del 23 ottobre, in cui spiega la sua scelta. La cantante aveva già spostato alcune date del tour la settimana scorsa a causa di una rinofaringite acuta, ma non è chiaro se i motivi dietro questa nuova decisione siano legati a questo problema di salute. Angelina Mango ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto e ha dichiarato di voler prendersi cura di se stessa. Gli organizzatori del tour hanno comunicato che tutte le informazioni riguardanti il rimborso dei biglietti sono disponibili sul sito di Live Nation www.livenation.it. La cancellazione del tour ha deluso i fan della cantante, ma la salute di Angelina Mango è al primo posto. Questa inaspettata notizia ha colpito i fan di Angelina Mango, che si aspettavano di vederla esibirsi in concerto. Resta da vedere se e quando la cantante tornerà sul palco, ma per ora la sua tessa... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!